Allora ragazzi, eccoci qua, soltanto una piccola pillola integrativa per completare un po' il discorso di ieri che ci abbiamo parlato per 20 minuti circa, quindi è stato un bel discorso lungo però vedete che questa parte si completa con le soluzioni elettrolitiche quindi questo argomento che è comunque collegato a quanto abbiamo visto prima intanto buttiamo giù subito un paio di definizioni chiaramente allora quando parliamo di soluzioni elettrolitiche intanto stiamo parlando di quelle soluzioni che si formano con un certo tipo di soluti che sono tutti quei soluti che una volta che si disciolgono in acqua si subiscono una reazione di dissociazione questa reazione di dissociazione come abbiamo visto in precedenza può essere di tipo ionico oppure può essere una dissociazione molecolare però comunque il risultato di questa reazione è che nell'acqua si liberano praticamente degli ioni cioè delle particelle che hanno una carica elettrica e allora per riconoscere se una soluzione è ionica chiaramente ce ne accorgiamo perché questa soluzione è in grado di farsi attraversare da una corrente elettrica e questa già è una definizione in pratica tutte quelle sostanze che messe in soluzione acquosa conducono poi corrente o permettono la conduzione di corrente elettrica vengono chiamate elettroliti al singolare chiaramente si dice elettrolita dire elettrolito o elettrolite non è corretto allora rivediamo un po' quindi quali sono queste sostanze elettrolitiche appunto le sostanze intanto che mette qui in questione sono i soluti chiaramente e allora vediamo un po' un'elettrolita può essere diciamo caratterizzata da due aspetti diversi infatti li ho ottenuti separati gli elettroliti possono essere ionici o covalenti un'elettrolita ionico vuol dire praticamente che il soluto di partenza era una sostanza solida comunque sia o liquida ma il cui reticolo cristallino quindi la sua struttura molecolare in pratica era formata da ioni vi ricordate per esempio il cloruro di sodio il nostro sale da cucina è formato da ioni sodio positivi e ioni cloro negativi legati fra di loro appunto a formare questo reticolo cristallino quindi un elettrolita può essere ionico ma può essere anche covalente abbiamo visto in precedenza il caso dell'HCL cioè dell'acido cloridrico questo acido quando è diciamo da solo tra virgolette quindi quando è un soluto puro ovviamente è un composto molecolare quindi chiaramente al suo interno il reticolo non è formato da ioni ma i legami che si formano tra gli atomi di questo acido sono legami semplicemente covalenti solo che quando viene messo in soluzione questi atomi si separano fra di loro grazie all'azione della molecola di acqua come vi ho detto per formare appunto gli ioni H più e gli ioni Cl meno se non lo ricordate ricordatevi la lezione che ho dato la volta precedente ancora gli elettroliti possono essere forti o deboli quando è che abbiamo un'elettrolita forte? quando questa elettrolita cioè questa sostanza che sia ionica o covalente si è messa in acqua si dissocia completamente in ioni quindi praticamente la reazione di dissociazione elettrolitica è completa è un'elettrolita debole invece quando questa dissociazione non avviene in modo completo ma rimane diciamo in soluzione ancora una parte di sostanze reagenti cioè quindi delle sostanze iniziali in pratica quando succede questa situazione qui ovviamente il grado di dissociazione di questo tipo di reazioni di questo tipo di reazioni di dissociazione che sono parziali è governato chiaramente dalla costante di equilibrio che poi vedremo insomma che assumerà un nome un po' diverso insomma che si parlerà proprio di costante di dissociazione in questo caso ed è proprio una reazione quindi che si viene a formare che è una reazione di un equilibrio e quindi sta diciamo sotto le leggi dell'azione di massa sotto le leggi del principio di riuscire degli ari della perturbazione equilibrio chimica eccetera eccetera perché? perché fondamentalmente sono delle reazioni reversibili per concludere tutti quei composti cioè tutti quanti quei soluti in pratica che si scioglono per solubilizzazione semplice vi ricordate vari tipi di solubilizzazione c'è anche quella semplice non danno origine a elettroliti cioè non sono proprio elettroliti in pratica la loro dissociazione è una dissociazione molecolare quindi praticamente sono sostanze che si staccano si separano fra di loro formando delle piccole molecole che sono elettricamente neutre e quindi queste non possono condurre corrente elettrica è il caso per esempio dello zucchero quando si scioglie in acqua dell'etanolo che vi ricordo dell'alcol etilico quindi quello che si utilizza per le bevande alcoliche l'acetone ma c'è anche alcuni gas ci sono l'ossigeno, l'CO2 per esempio l'CO2 in acqua chiaramente non dà origine a soluzioni elettrolitiche tranne quando poi non reagisce con la stessa molecola di acqua e quindi forma acido carbonico allora in quel caso l'acido carbonico è invece una sostanza elettrolita bene, detto questo avete visto che è durato molto poco vi lascio e poi vi aggiornerò anche con questa paginetta da integrare al discorso che ho fatto in precedenza ringrazioci a tutti e buona giornata grazie a tutti